salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale la mia prova di un'anterna esterna per connessioni fwa le connessioni fwa per chi non lo sapesse la possibilità di utilizzare la rete 4g o 5g con un modem domestico quindi avremo una sim inserita nel modem domestico ma sfrutteremo la rete che normalmente utilizzeremo nei nostri smartphone però ovviamente essendo una rete dedicata per utilizzo domestico in base all'operatore potremo avere tranquillamente anche i giga illimitati però essendo un segnale che arriva dall'aria il modem è in casa andiamo sicuramente a perdere quello che diciamo la ricezione massima dalla bts cioè dall'antenna che trasmette a noi che andiamo a ricevere con il nostro modem all'interno di un'abitazione poi ovviamente può esserci magari solo un muro da oltrepassare o invece magari avremo bisogno di oltrepassare più muri quindi questo va a ostacolare quello che è il segnale quindi un'antenna esterna va ad ovviare questo problema oggi guardiamo questa antenna della maxwell che ci permette appunto di andare a ricevere direttamente il segnale fuori dalla nostra abitazione per poi portarlo all'interno del nostro modem per utilizzare però un'antenna esterna bisogna avere un modem che abbia gli ingressi per un'antenna esterna quello che vedete il mio router ma sono tantissime le marche di router che ci danno la possibilità di connettere un'antenna esterna ma prima di analizzare questo prodotto da vicino le sue caratteristiche direi di vedere cosa c'è nella confezione e poi analizziamo tutto insieme quindi troviamo due cavi della lunghezza di due metri l'uno per andare a collegare la nostra antenna al nostro modem o router ovviamente se il modem dovesse essere più lontano dovremmo andare ad acquistare dei cavi più lunghi e poi troviamo tutto il necessario per andare a fissare la nostra antenna ad un palo quindi avremo sia la staffa a l che le due staffe a per andare appunto a fissare ad un palo la nostra antenna maxwell dopodiché troviamo un foglio illustrativo che ci fa vedere come andare a montare appunto la staffa di fissaggio all'antenna per poi andare a fissare ad un palo o ad una superficie ed infine troviamo nostra antenna esterna della maxwell come abbiamo detto 4 g 5 g lte è fatta in plastica ip67 quindi impermeabile ed ha una misura di 27,5 x 27,5 ed ecco qua la nostra antenna della maxwell io l'ho già installata sulla mia staffa ovviamente questo piccolo supporto non è incluso nella confezione un supporto che io ho acquistato al brico che è quello che utilizzo normalmente per fissare le antenne esterne mentre la staffa ovviamente come avete visto nel unboxing lo trovate direttamente nella confezione come vedete questa antenna della maxwell ha dimensioni direi abbastanza importanti ip67 quindi può stare tranquillamente all'aperto e non ha paura di umidità di freddo non ha paura praticamente di nulla lei è compatibile con connessioni 3 g 4 g 5 g lte quindi praticamente con tutti i tipi di connessione è possibile utilizzarla copre le frequenze che vanno da 600 a 8000 megahertz quindi una copertura molto molto ampia e per quanto riguarda la connessione al nostro modem abbiamo la possibilità di arrivare massimo a 6 metri di cavo perché dico massimo perché si può sì andare anche oltre ai 6 metri di cavo però ci sarà poi una perdita di segnale quindi non sfrutteremo appieno quello che è il discorso di avere un'antenna esterna quindi con questo modello della maxwell possiamo arrivare fino a 6 metri di cavo all'interno della confezione avete visto ne abbiamo di due metri però ovviamente poi uno li può acquistare separatamente se li vuole avere più lunghi però come abbiamo appena detto mi raccomando non oltre 6 metri sennò poi perdete di prestazioni lei praticamente compatibile con tutti i router l'importante come abbiamo detto a inizio video che i router abbiano la possibilità di avere la connessione di un'antenna esterna queste sono tutte le sue caratteristiche anche perché non è che ci sia molto da dire su un'antenna esterna per quanto riguarda le caratteristiche tecniche ma quello che conta sono diciamo i miglioramenti che può darci e da lì che poi potremo valutare o meno se acquistare o no un'antenna esterna questa antenna della maxwell è disponibile su amazon vi lascio qua sotto i link in descrizione trovate anche i link per amazon germania e amazon inghilterra perché comunque questo prodotto è venduto molto di più all'estero ogni tanto è disponibile anche su amazon italia però acquistare su amazon anche da amazon germania per esempio è uguale che acquistare su amazon italia è la stessa identica cosa non è che c'è da fare niente di più niente di meno cioè abbiamo solo la schermata con una lingua tedesca ma la possibilità la modalità di acquisto praticamente è la stessa quindi non c'è nessun problema ad acquistare da un amazon di un'altra nazione è un altro vantaggio appunto di amazon è anche questo quindi ragazzi detto tutto questo direi che a questo punto però è arrivato il momento della fase più importante quindi di andare a posizionarla e poi fare un bel test di confronto prima utilizzando il router con le antenne interne quelle che ha appunto dentro di lui e poi fare switchare con il software appunto dedicato quello che ha il nostro router switchare e far funzionare le antenne esterne quindi un confronto diretto per vedere appunto se c'è un miglioramento quelli che dovremmo avere utilizzando un'antenna esterna poi tutto questo poi si tramuterà anche in un vantaggio ovviamente in quello che è in download il ping e anche l'upload però sicuramente il ping è quello che di solito con un'antenna esterna diciamo ha più vantaggio e anche il download è quello che normalmente ha più vantaggio con un'antenna esterna per capire dove andare ad installare l'antenna esterna sulla vostra abitazione vi consiglio di utilizzare LTE Italy è un sito gratuito che ci mette a disposizione tutte le bts disponibili in Italia quindi vedremo tutte le antenne di tutti gli operatori e andando a digitare ovviamente il paese dove noi abitiamo vedremo le antenne vicino a noi ovviamente dovremmo andare a selezionare l'operatore con cui abbiamo fatto un contratto e potremo vedere dove si trova l'antenna che trasmette verso di noi quindi andremo ad orientare la nostra antenna esterna proprio in quella direzione questo è strettamente necessario perché se l'antenna la andiamo a dirigere dalla parte opposta di dove abbiamo la nostra bts sicuramente il risultato non sarà per niente ottimale anzi avremo proprio un effetto contrario direi peggio che non utilizzare un'antenna esterna quindi questa cosa di vedere dove si trova la bts che trasmette davvero molto molto importante quindi detto tutto questo direi che adesso però è arrivato il momento di andare a testarla andiamo perfetto siamo pronti all'installazione quindi andrò a mettere la vite qua del supporto collegare i due cavi al cavo che poi entra in casa dove ho il modem e tutto è pronto per fare il nostro test dell'antenna per fwa della maxwell perfetto la connessione l'installazione l'abbiamo fatta adesso non ci resta che entrare in casa e fare il test con il modem connesso con le sue antenne interne e poi faremo la prova attivando invece lei l'antenna maxwell quindi andiamo a provare allora qua dietro vedete ho l'antenna che entra da quella parte del muro sale e si connette qua all'ingresso delle antenne del modem poi tramite il software del modem andremo a disattivare le antenne interne e attiveremo quelle esterne quindi facciamo questa procedura e vediamo cosa cambia a livello ddb quindi la qualità e la potenza del segnale che il modem riesce ad avere in più andando ad utilizzare le antenne esterne rispetto a quella interna allora andiamo a fare questa prova in questo momento siamo all'interno del software del modem quindi vado ad attivare hmodem che sarebbe l'applicazione aggiuntiva che ci permette di vedere i db che ha il nostro modem in questo momento per quanto riguarda la ricezione e vedete che abbiamo 104 dbm che sarebbe la qualità della ricezione del modem della potenza del segnale che riesce a ricevere dalla bts cioè dall'antenna che invia il segnale al nostro modem allora a questo punto memorizziamo che abbiamo 104 dbm e siamo connessi alla banda numero 7 come vedete e qua sotto antenna vedete che abbiamo inter inter cosa vuol dire che siamo appunto utilizzando tutte e due le antenne interne perché comunque è possibile utilizzare tutte e due quelle interne tutte e due quelle esterne o utilizzarne un'interna un'esterna quindi ovviamente in base alle impostazioni del modem che andremo a selezionare potremmo scegliere queste funzioni ma non ci interessa tutto interno o tutto esterno per lo meno in questo video questo è l'obiettivo quindi abbiamo 104 dbm con antenne interne vado nelle impostazioni del modem sistema impostazioni sistema vado su impostazioni antenne vedete che abbiamo interna interna seleziono esterna vado a fare salva e andiamo a vedere adesso gli diamo un attimo perché lui ovviamente deve scollegare le antenne interne e attivare la ricezione tramite le antenne esterne vedete che siamo connessi sempre alla banda numero 7 ma il dbm di ricezione è cambiata adesso non abbiamo più una linea gialla ma abbiamo una linea verde ed è diventato 98 dbm quindi questo miglioramento ci permetterà di avere un segnale più forte più performante più costante più stabile oltre che ovviamente anche un miglioramento nelle prestazioni però per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni non immaginatevi uno stravolgimento ci sarà un miglioramento nel ping quindi migliorerà di qualcosina il ping migliorerà anche il download e però non è detto che sia niente di sconvolgente però sicuramente un miglioramento c'è anche da quel punto di vista ma la cosa più importante è avere un segnale più stabile quindi anche quando c'è mal tempo perché comunque stiamo parlando di qualcosa che viaggia nell'area quindi quando c'è magari mal tempo temporali queste situazioni che potrebbero andare a non darci un segnale costante performante quando il tempo meteo non è ottimale in queste situazioni con un'antenna esterna andiamo a migliorare anche questo aspetto ed è questo importante poi la stabilità che migliora notevolmente che non avere un'antenna esterna ovviamente bisogna avere la possibilità di poter installare come abbiamo detto questa antenna della maxwell ci permette di avere una lunghezza massima del cavo senza perdere nulla di 6 metri massimi quindi se si va oltre i 6 metri di cavo si rischia di perdere poi comunque l'efficacia dell'antenna nel mio caso è un cavo di 3 metri quindi sono tranquillamente dentro ai 6 metri dell'antenna adesso proviamo a fare un test per quanto riguarda le prestazioni giusto per capire in questo caso lo faremo con l'antenna esterna perché siamo già collegati all'antenna esterna quindi andiamo a fare un test delle prestazioni utilizzando ovviamente speed test e dopo andiamo a scollegare le antenne esterne riattivare con le interne e rifacciamo il test quindi andiamo a fare un bel vai e vediamo l'efficienza adesso di questa antenna queste sono le prestazioni in questo momento calcolate che è domenica pomeriggio e sono le 16 e 30 circa quindi le prestazioni in questa fascia di orare di domenica sono diciamo abbastanza sature per quanto riguarda l'utilizzo perché viene viene molto usato ovviamente internet di domenica o di sabato se questo test l'avessi fatto in settimana allo stesso orario sarebbe stato molto molto più performante ve lo garantisco perché ho provato però per fare un confronto tra antenna esterna interna è uguale perché lo stiamo facendo nello stesso identico momento quindi il raffronto è dato appunto dalla stessa situazione perfetto vedete che abbiamo 48,27 di download 31 di ping e 29,76 di upload adesso andiamo a fare la stessa prova disattivando l'antenna esterna e attivando quella interna e poi facciamo un confronto appunto di quello che erano le prestazioni quindi abbiamo 48,31,29 allora ritorniamo nelle impostazioni del modem quindi vado a selezionare antenna interna vado a fare salva quindi lui andrà a spegnere quello che è la ricezione dell'antenna esterna e andrà ad attivare le sue due antenne interne quindi andiamo a vedere vedete che siamo tornati in questo momento a 105 dbm e mentre con l'antenna esterna abbiamo visto che eravamo arrivati a 98 dbm siamo collegati sempre a quello che è la banda numero 7 quello importante per fare il raffronto perché cambiando banda potrebbero cambiare le prestazioni le prestazioni sia di ricezione sia di potenza di segnale che anche di potenza dati che ci arriva perché comunque il cambio banda fa tanto tanta differenza però questo è uno switch che fa lui da solo però in questo caso siamo fortunati perché abbiamo la stessa banda quindi avremo un confronto veramente reale tra le due possibilità allora questo era il risultato precedente andiamo a fare vai e vediamo cosa cambia allora vediamo subito il ping che è passato da 31 a 42 la velocità che va a 45 41 adesso vediamo dove arriva siamo scesi a 32 eravamo insieme intorno ai 45 48 non mi ricordo già neanche più io vabbè comunque siamo a 34 quindi anche la velocità è cambiata molto vediamo l'upload l'upload siamo più o meno in linea secondo me perché anzi sembra quasi che abbiamo un qualcosina in più abbiamo un 32 allora questo è il risultato del test ovviamente questi dati per quanto riguarda la velocità cambiano ovviamente in base anche proprio al momento anche se abbiamo visto che siamo nello stesso orario adesso siamo a 16 32 prima avevamo 16 28 di orario quindi siamo lì però il ping è una cosa che cambia molto quello l'ho notato con l'antenna esterna il ping è migliore non è che diventa più veloce del doppio più lento del doppio però c'è un notevole miglioramento il download anche l'upload è rimasto più o meno uguale però comunque alla fine si ha sempre un'ottimizzazione anche sulle prestazioni con l'antenna esterna e poi come abbiamo detto secondo me il risultato migliore o meglio il senso proprio dell'antenna esterna è la stabilità e la potenza del segnale proprio per quanto riguarda la stabilità in tutte le condizioni sia in condizioni normali ma anche quando c'è mal tempo quindi se si ha la possibilità l'antenna esterna è sicuramente tanta roba questa antena della maxwell vi lascio qua sotto il link in descrizione come vi ho detto trovate il link sia per acquistarla anche da amazon inghilterra amazon germania che comunque come sapete acquistare con amazon anche da questi paesi è semplice come acquistare su amazon italia uguale vi si cambia solo lo stato d'acquisto ma la modalità è la stessa quindi non vi cambia assolutamente niente perché comunque è sempre un prodotto spedito da amazon e questo è sicuramente un qualcosa che ci dà la possibilità magari di trovare dei prodotti che non sempre sono disponibili in italia ma questo è un discorso un po' generale quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia prova e il mio test per quanto riguarda l'antenna esterna per modem e connessioni fwa vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante nuove tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale e anche di quest'antenna erano arrivati degli spoiler quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale anche di quest'antenna quando sarà in offerta o se avrò degli sconti particolari sicuramente li posterò qua sotto in descrizione video ma anche nel mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao al prossimo video